Ragazzi, siamo ai confini dell'Italia, qui c'è Donny, Omar, adesso a mio fianco Omar Omar, ciao ragazzi, stiamo arrivando in Svizzera, stiamo andando a portare i nostri soldi a portare e a controllare quelli che ci abbiamo già, è vero Donny, anche te? Esatto, i 50 euro sono tutti lì, bene, di qua si va, tra poco passiamo la dogana e siamo in Svizzera, qui finisce l'Italia. Guarda gli ovuli con i 500 euro, ce li hai ingoiati tutti? E gli ovuli pieni di soldi, Corra sta portando in Svizzera. Ecco, stiamo entrando, stiamo andando verso la Svizzera, qui finisce, siamo tutti, oggi è il primo settembre 2024, giusto Omar? Oggi è il primo settembre 2024, vero? Bene. Possiamo dire che siamo arrivati in Svizzera, appena passiamo quella casetina di bianca. Adesso lo metto via perché non vorrei che mi fanno nessuna rabbia in Svizzera.